Nuovo podcast e siamo giunti praticamente a fine mese, quindi come promesso nei podcast precedenti facciamo un po' un'analisi non solo di come è andato questo mese e anche la previsione come ogni volta per il prossimo mese ma parliamo anche di questi ultimi 5-6 mesi dell'SP500 che è un indice che prendiamo come sempre al riferimento delle borse mondiali. Perché volevo fare questa analisi con dei dati? Perché secondo me sono molto importanti e fanno riflettere un po' su quello che è stato l'andamento che abbiamo visto delle borse negli ultimi mesi. Prendo a riferimento due periodi storici. Il primo è il massimo dell'SP500 prima del Covid e cioè il 19 febbraio. Il secondo invece periodo che prendo a riferimento è il giusto 6 mesi dopo, quindi il 18 di agosto 18 di agosto che è il massimo che ha fatto l'SP500 battendo quello là del 19 febbraio. Quindi i due massimi che abbiamo avuto quest'anno, anche se poi abbiamo visto che l'SP500 si è dato da fare anche dopo il 18 di agosto di certo, non arretrato, però è stato il primo massimo che ha avuto da quel 19 febbraio. Quindi dopo sei mesi praticamente l'SP500 si è riportato ai massimi e vedere appunto cosa è successo in questi sei mesi. Come sappiamo tutti a marzo c'è stato il crollo dovuto al coronavirus e quindi molti, molti titoli sono andati giù e non tutti in questo periodo o dal crollo del coronavirus si sono ripresi nella stessa maniera, lo sappiamo tutto, tutti che hanno inciso in maniera molto molto diversa sui listini con molte differenze tra settore e settore. Ma andiamo a parlare dei numeri, perché poi alla fine secondo me quello che conta più di tutto sono i numeri più che le opinioni. Vediamo un po' dal 19 febbraio al 18 agosto l'SP500 ha avuto, come dicevo, è ritornato ai suoi massimi, ma all'interno dell'estino solo il 38% delle azioni ha avuto dei guadagni. Quindi il 62%, il che significa quasi due terzi dell'estino è in perdita in quel periodo lì. Quindi se avessi, se tu compravi un'azione di quel listino lì, avresti avuto praticamente un terzo più o meno di possibilità di guadagnare e due terzi invece di perdere. Cosa molto importante, a differenza di invece di se avessi comprato tutto quanto il listino, dopo sei mesi ti trovavi praticamente in parità. Quindi sotto questo punto di vista c'è stato un grandissimo discostamento tra le azioni, visto che quasi solo un terzo sono risultate le azioni che hanno guadagnato in quel periodo lì. La performance chiaramente è variata in base proprio al settore, con alcuni settori che invece, alcune azioni di alcuni settori che hanno avuto una percentuale superiore al 50% di positività, quindi che hanno guadagnato. E questi settori sono quelli legati al bene di consumo, alla sanità e alla tecnologia. Invece poi ci sono stati altri settori che addirittura hanno fatto livelli inferiori al 25%. I dati chiaramente li ho presi dalla CNBC, quindi è una fonte più che autorevole. In molti casi queste azioni sono diminuite in modo significativo rispetto a febbraio. Se andiamo ad analizzare, infatti, ci sono stati alcuni titoli come Norwegian Cruise, cioè quelli Cannival, Occidental Petroleum, quelli legati al petrolio o legati al turismo, che hanno fatto in questo listino davvero male, visto che sono andati in questo periodo al meno 71% e meno 67% per questi titoli. Altri invece hanno visto cali che hanno superato il 25% di queste azioni che hanno superato il 25% sono state 126 titoli. 43 invece le azioni che hanno guadagnato più del 25%, quelle che hanno guadagnato di più sono a Biomed, Paypal e Amazon. Addirittura Biomed ha guadagnato l'87%, Paypal il 57% e Amazon il 53%. Tra le tante cose ci sono stati all'interno di alcuni settori azioni che hanno fatto male nonostante il settore stesso sia stato il settore che ha fatto meglio in quel periodo lì. pensiamo al settore delle azioni tecnologiche, come abbiamo visto prima Paypal è stata una di quelle che ha guadagnato di più, Nvidia che comunque è andata oltre il 50% di guadagno, mentre Western Digital e Xerox sono diminuiti altrettanto rapidamente. stessa cosa vale per altri settori, come dicevamo un altro settore che ha perfumato bene è quello sanitario, dove West Pharmaceutic Regeneron ha fatto il 58% e il 54% e invece che sono stato tra i migliori tra le altre cose, mentre più del 40% delle azioni sono diminuite, tra cui Densley, Sirona e Universal Health Service e Cigna, che ha fatto il meno 18%. dovrei fare un ripasso di inglese, ma direi prima dell'inglese anche un ripasso di italiano non sarebbe male, direi dopo aver letto tutte queste aziende americane. l'unico settore in cui prendendo il riferimento questa volta non dal 19 di febbraio al 18 di agosto, prendendo invece il riferimento dal 23 di marzo al 18 di agosto, il 23 di marzo dove ricordiamo ci sono stati i minimi dell'SP500, vogliamo invece vedere un'altra cosa, che nel caso dell'SP500, e quindi non facendo un riferimento ai settori, prendendo il riferimento dal 23 di marzo al 18 agosto, quando alla fine l'SP500 è riuscito ad aumentare, quindi è salito del 52%, in questo lasso di tempo, quindi 23 marzo al 18 di agosto, solo 6 azioni sono risultate negative. Finiamola qui con i tanti dati, e invece parliamo un po' di quello che prevedo per i mesi di settembre, anche qui faccio un po' di previsioni, come tra l'altro abbiamo fatto un po' di analisi per gli ultimi 5-6 mesi, facciamo anche delle previsioni per i prossimi 4 mesi. Chi mi segue già sa che avevo, o meglio sto dicendo da un bel po' di tempo, che i mesi che verranno dalla seconda settimana di settembre fino a fine anno, saranno mesi secondo me molto turbolenti, ci saranno un bel po' secondo me di volatilità, e quindi dovremmo prepararci a tutto questo, anche perché partiamo da un listino, quello dell'SP500, ma soprattutto quello del Nasdaq, dove i valori sono davvero molto 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 alti, quindi c'è da aspettarsi qualche crollo, molto probabilmente, di azioni singole, più di listini, perché sui listini che contemplano chiaramente molte azioni, penso che alla fine ci sarà più un ritracciamento che altro, non vedo grossi crolli in giro, chiaramente se non succede qualche evento molto importante, penso per esempio a una guerra vera tra Cina e Stati Uniti, dove si incomincerà a fare una guerra commerciale, diciamo che Trump già l'ha incominciata a fare, e invece la Cina diciamo che sta molto più sul difensivo, secondo me in attesa di aspettare appunto come andranno le elezioni americane, questo, poi ci saranno tra l'altro molte cose che potranno sconvolgere il mercato, pensiamo solamente a questo inverno che avremo ancora molto probabilmente il Covid attivo, nonostante che tutto lascia presagire che per ottobre avremo ufficialmente un vaccino, poi ci sarà questo vaccino da distribuirlo, ci sarà da vedere quante persone ce lo faranno, ci sarà da vedere i movimenti no Covid, no vaccino, no eccetera eccetera, quindi sarà un po' da vedere, io non penso che sarà debellato a breve termine, ma soprattutto bisognerà vedere come andrà l'economia, e quindi vedere il PIL del terzo e del quarto trimestre, molto importante perché già dal PIL del terzo trimestre vedremo veramente qual è stata la reazione vera di tutte le economie avanzate dei paesi sviluppati dall'America, passando ai paesi europei fino ad arrivare alla fine a paesi come la Cina che è stata tra l'altro la nazione che si è ripresa per prima e quindi da lì già potremo vedere veramente quale sarà l'evoluzione, chi veramente è stato colpito di più a livello economico e chi invece si sta riprendendo meglio. Altre situazioni molto importanti, già l'abbiamo detta, quella delle elezioni in America, potrebbe esserci problemi in Italia, visto che se l'economia non si riprenderà quest'anno, sicuramente per fine anno o inizio anno prossimo, il governo andrà molto in crisi, visto che i rapporti tra PD e Movimento 5 Stelle di certo non sono idilliaci, visto anche che non sono riusciti a trovare un accordo per le regionali in Umbria e Puglia, in Marche e Puglia. Ogni tanto vado per la tangenziale mia. E quindi saranno periodi molto turbolenti, anche perché come dicevo, rispetto ad agosto, a questi mesi qui, ci saranno molti più volumi, molti più capitali e soprattutto si incomincerà un'altra volta a immettere tanta tantissima liquidità nell'ambito finanziario. Non a caso le azioni sono andate così bene, perché tutta la liquidità è andata un'altra volta sulla finanza, sugli investimenti in borsa e le azioni, chiaramente, quando c'è tanta liquidità, sono quelle che vengono più comprate e è evidente che c'è una crescita, come è evidente che così facendo si rischia veramente di creare una grossa, grossa bolla. E così vedremo se il mercato, dopo che usciranno i dati, soprattutto del PIL, riuscirà a riprendersi oppure sarà attaccato, chiaramente, dagli speculatori, in primis penso ad azioni a nazioni come l'Italia, dove inevitabilmente con un debito così alto che crescerà ancora di più, potrebbero essere attaccate in primis il settore delle banche, quindi occhi aperti soprattutto in alcuni settori, ma non solo. Ultima considerazione è che tutti prevedono che ci potrebbe essere un crollo o un ritracciamento, tra cui anche il sottoscritto, come ho detto, penso più a un ritracciamento che a un crollo e invece, come tra l'altro abbiamo visto negli ultimi mesi, negli ultimi cinque mesi, non c'è stato poi nessun ritracciamento e nessun crollo, quindi, come sempre, il mercato è molto imprevedibile. Quindi potrebbe anche succedere questa cosa, cioè che il mercato ci stupisca ancora e cominci, continui a macinare record su record, ma questo non è un fatto positivo dal mio punto di vista, perché, come dissi, a ottobre-novembre del 2019, più si accumula la neve sulla montagna, più sarà grossa l'avalanca e poi, come abbiamo visto, l'avalanca è stata bella grossa a marzo. Quindi stiamo sempre bene con gli occhi aperti e mettiamoci la corazza, come dicevo, nei podcast precedenti. Manteniamo dritto la nostra rotta, seguiamo il nostro piano e la nostra strategia. In questo caso faccio soprattutto il riferimento a tutti quelli che hanno visto il mio portafoglio ETF Lite e quindi seguono quel tipo di portafoglio là, avete un piano, avete una strategia, seguitela, non c'è nessun motivo per fare qualcosa di diverso. Chi volesse avere informazioni sul portafoglio ETF Lite o sul Patreon oppure avere semplicemente qualche notizia su tutti i temi giornalieri della finanza può iscriversi al gruppo Facebook Cambiare tutto, cambiare subito, previsioni sull'economia e la finanza dove lì non solo esprimo i miei pensieri ma ci sono tantissimi articoli e soprattutto ci sono tantissimi che intervengono e dicono la loro. Tra l'altro persone che sono molto competenti perché quelli che non sono competenti li vanno, ecco, dico la sincera verità e quelli che non vedo che vengono sul gruppo per parlare di cose serie o vengono solo per cazzeggiare non fanno una buona fine quindi troverete tutti opinioni di persone competenti. Con questo è proprio tutto e io, come in ogni podcast, vi ricordo che siete sempre sotto il fuoco nemico. e io, come in ogni posto